Oltre un milione di euro. Questa è la richiesta di risarcimento presentata dai genitori di Martina Rossi, la giovane Ligure, morta precipitando dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca il 3 agosto 2011 ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La richiesta è stata presentata al Tribunale Civile di Arezzo. I legali dei due aretini, condannati a tre anni per tentata violenza sessuale, hanno invece citato in giudizio la stessa struttura alberghiera, teatro del tragico episodio, chiedendosi se la stessa avesse tutti i requisiti di sicurezza. Per la sentenza di condanna, la ragazza sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Occorre, spiegano adesso gli avvocati Tiberio Baroni e Stefano Buricchi, ricostruire i fatti e capire se l'hotel avesse i requisiti necessari di sicurezza, tali da impedire la caduta di Martina Rossi o di qualsiasi altro ospite. Va stabilito, insomma, se il balcone fosse o meno a norma. Il giudice Pieschi ha accolto la richiesta avanzata dai legali difensori, così l'udienza in programma per il prossimo 7 marzo è slittata al 19 settembre, giorno in cui il giudice dovrà decidere anche sulla richiesta di risarcimento fatta dai genitori di Martina Rossi. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, infine, stanno scontando ancora la condanna in regime di semilibertà.